i commenti che mi hanno scritto nell'ultimo video intanto fatemi salutare che non voglio essere sgarbato ciao fam qui Showtime GP già mi conoscete o se non mi conoscevate prima ciao again bene questa volta senza troppe scenette andrò a fare un tutorial rispondendo alle vostre richieste quindi io stavo guardando prima con il capitano Sergio il mio videocamera che mi aiuta in questo viaggio stavamo guardando e vedevo che mi chiedete molto spalle qua mi chiedete ancora grande GP potesse portare qualche tipo di allenamento per le spalle quindi spalle in effetti non ho messo molti video sulle spalle quindi andiamo a parlare le spalle let's go fam eee a be a a a ok allora per questo circuito come al solito ci muniamo del nostro cellulare che utilizzeremo come cronometro ok quindi andate a piazzare 5 minuti 30 secondi di lavoro 30 secondi di recupero siamo pronti let's go partiamo subito con dei pseudo planche push up via let's go ci sbilanciamo in avanti andiamo di piegamento ok ora subito 30 secondi di recupero quindi avete visto in questi impiegamenti qual è il focus sbilanciarsi più avanti possibile ok così andare chiamare le spalle quindi non lavoriamo così ma ben sbilanciati in avanti adesso quello che andremo a fare sono dei pike handstand push up da 3 2 1 via già si fa sentire il pompa con già le spalle che cominciano a dire perché mi fai questo perché mi fai questo e io già gli dico perché vi voglio bene vi voglio sexy splendenti grosse spalle mie ok partiamo subito ora sul rialzo e via lunge la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oddio mio, se si sente, ho capito perché vi piacciono i miei tutorial, però cazzo piterina, madonna, quando senti il pump così, mi pensi anche il giorno dopo? Perché sicuro si, andiamo con il quarto esercizio, ora ci sbilanciamo in avanti e manteniamo le isometrie. Allora, let's go! Mamma mia, mamma mia, sto cominciando a trasformarmi, cominciò a diventare una tarta ruga ninja. Ok, abbiamo l'ultimo giro, 10 secondi di recupero, ora andiamo a fare la verticale, io uso l'albero, voi potete usare il muro, quello che volete. Let's go! 5 esercizi, 5 minuti, super fire! Provate questo workout per 3 volte e fatemi vedere, anzi fatemi sapere se siete morti o meno. Quindi, senza altro indugio, come dico sempre, like, iscrivetevi, commentate se volete altri video, seguitemi su Instagram. Ah, che altro dire? Già sapete, only quality fam, ai! Già, 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 Già. Grazie a tutti.